Nulla di fatto sul controllo delle armi al Senato americano. Repubblicani e democratici, contrapposti, si annullano a vicenda e sbarrano la strada a proposte per avanzare verso maggiori controlli e restrizioni sulla detenzione delle armi da fuoco. Troppo forte la lobby bipartisan delle armi. E questo, malgrado interventi, come quello della democratica Barbara Mikulski. Perché sottoporsi a controlli strettissimi per salire su di un aereo quando poi qualcuno che è a rischio terrorismo può liberamente comprare un'arma. I senatori bocciano una dopo l'altra quattro proposte di legge, due presentate dai repubblicani e due dai democratici attraverso un voto che non raggiunge i 60 sì necessari per consentire un proseguimento dell'iter. È qualcosa di troppo serio che va risolto con una risposta seria, dice una repubblicana. Dobbiamo trovare la risposta assieme ma non dobbiamo avere una risposta in competizione fra le altre. Mettiamo da parte la competizione e cerchiamo di studiare una soluzione che sia utile al popolo americano. Questo vuol dire una cosa sola, stallo. Una quinta opzione arriverà in aula nelle prossime ore, ma pur con prospettive più ottimistiche, non ci si aspetta una svolta.